lucida la protesi. L'altra cosa poi che vi ho detto e bisogna capire è come chiudere i fori, di quello ce ne occupiamo noi, siamo noi che decidiamo come aprirli, come chiuderli, però sappiate che avrete sempre dei denti bucati, artificiali, belli ma forati, con dei fori, e quei fori servono per poter intervenire in caso di problemi. Questa era la lezione di igiene, fatemi pensare se ho dimenticato qualcosa, qua devo finire di completare questa tabella, vi ho parlato prima di igiene meccanica, poi c'è l'igiene chimica. Nella parte meccanica c'è gli spazzolini, gli scovolini, pulisci lingua, idropulsore non lo metto, ok così vi ricordate sempre questi, cos'altro ci può essere? Bravo. Il filo, questa è la parte più importante perché le protesi sono convesse, se io faccio passare il filo è lucido, la convessità viene pulita, lucidata e questo non può essere fatto, se ti fanno invece la protesi in questa maniera che ti faccio vedere ora, eccola, no, non è questa, non ce l'ho qua, questa fotografia, però era molto utile, non ce l'ho, forse ce l'ho qua, neanche, va bene, questa è la mia tesi di laurea, fatta col professor Garau, questo è il premio che ho vinto nel 2009, borsa di studio a Verona, implantologia, ricostruzione del seno macellare, ok quindi il grande rialzo del seno macellare, ricostruttiva quando uno non ha più osso e con questa poi ho iniziato tutto, con questa borsa di studio, ok, qualcuno mi chiedeva questi giorni come avete iniziato, chi vi ha dato i soldi, borsa di studio, ok, poi è tutta una palla che cresce, ok, sono qua a parlarvi di denti e igiene oggi, perché la ritengo la cosa più importante di tutte, far capire al paziente come dovrà mantenere il lavoro poi negli anni, far capire che ormai siamo sposati, ok, non c'è modo di tirarsi indietro, non ci saranno compromessi, ok, da parte nostra nell'informarvi, io 2020 sarò molto impegnato in Italia per formare tutti questi igienisti, che la ritengo la parte poi strategica, anche più importante per l'azienda, perché se io produco, che ne so, la Tesla, non posso dare l'assistenza nel mondo, nei vari paesi, la parte fondamentale che poi fa il successo, il fallimento di una fabbrica di automobili, l'assistenza, se io compro un'automobile che però l'assistenza c'è solo in Giappone, non la compro, l'assistenza bisogna avere dei protocolli fondamentali, importanti, freschi, freschi, questi ve li ho anche portati da Lisbona, sono andati all'altra parte dell'Europa e poi sono tornato, ok, perché quando voglio risolvere qualcosa vado da chi gli ha già risolte le cose, non ci inventiamo protocolli, ok, prendiamo i protocolli internazionali e li applichiamo di modo, è la stessa cosa che si fa in tutto il mondo sulle protesi di questo tipo, non è che noi siamo belli, allora dobbiamo chiudere tutte le protesi in un certo modo, perché i nostri pazienti sono bravi, bisogna valutarlo, ci sono degli strumenti, ci sono dei questionari di valutazione del rischio che vanno anche fatti conoscere al paziente, per quello ve ne ho parlato, per capire che non è che decideremo noi a simpatia ogni quanto ci dobbiamo vedere, servono degli indicatori e vanno saputi anche comunicare al paziente, sia visivamente, con le fotografie, che andando poi a rilasciare anche il modulo di valutazione del rischio, perché se io vado a fare un check up dell'automobile, ok, non è che ne faccio uno di check up, dovrà essere fatto ogni tot chilometri, però devo sapere in che stato sono le cinghie all'interno, i filtri all'interno, c'è chi cammina di più chi cammina di meno. Niente, questo oggi non era una lezione incentrata sull'aftercare, però l'aftercare sappiate che come risolvere i problemi, queste sono cose diverse dal mantenimento. Se voi avete dei problemi, noi negli stessi centri facciamo anche l'aftercare, abbiamo quindi per l'aftercare il dentista, per il mantenimento l'igienista, e il dentista che lavora per l'aftercare è affiancato da odonto tecnico, ok?